C'è stato sin dall'inizio una sorta di tentativo di non considerare la telefonata di D'Angelo, le molteplici telefonate di D'Angelo che sono state effettuate il giorno della tragedia. Nove chiamate alla prefettura e 19 alla Croce Rossa e al Coq di Penne per chiedere i soccorsi alcune ore prima della valanga che distrusse l'hotel Rigopiano. Questi i risultati dell'analisi effettuata dai carabinieri del RIS di Roma sul cellulare di Gabriele D'Angelo, cameriere della struttura e una delle 29 vittime della tragedia del 18 gennaio 2017. I dati in questione però approderanno in tribunale soltanto nel novembre del 2018, a quasi un anno e dieci mesi dal drammatico evento. Sarebbe stata gestita o no la chiamata di Gabriele? E se no, per quale ragione non è stata gestita e come avrebbe potuto essere gestita? La consulenza tecnica della procura parte da una tempistica che non tiene conto di questa chiamata e non si domanda avrebbero potuto essere salvate queste 29 persone se i soccorsi fossero partiti non con un'ora, due ore di anticipo, ma rispetto all'orario effettivo di partenza con sette ore di anticipo. Gli avvocati difensori del sindaco di Farindola e Lario Lacchetta, accusato di non aver adottato un nuovo piano regolatore generale che tenesse conto del pericolo valanghe, puntano il dito contro le istituzioni al di sopra del comune, che avrebbero gestito male l'emergenza intervenendo con colpevole ritardo. Se si tratta di indagare su un fatto, occorre indagarlo in tema di prevenzione, ma anche in tema di gestione dell'emergenza. La gestione dell'emergenza inizia dal comune, passa per la provincia della prefettura e finisce in questo caso per la regione, per non scomodare i piani più alti. A voi l'interpretazione dei fatti. Ci sarebbe poi stato il tentativo di occultare la mala gestio. Il depistaggio coinvolge alcuni carabinieri che avrebbero omesso di riportare, nelle loro relazioni, le richieste di soccorso pervenute alla prefettura di Pescara. Ciò svelerebbe il muro di omertà che coinvolge la pubblica amministrazione. Qui si sta parlando di intervento e gestione dell'emergenza basata su preferenze politiche.